Nel mondo digitale di oggi la sicurezza informatica è più importante che mai. Sei un'azienda e quindi sai quanto è importante poter contare su professionisti esperti in coding con le giuste skills. Lo sai che Next sta selezionando 200 talenti esperti in coding da fare entrare subito nella tua azienda. Next è un progetto selezionato dal fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale che ha l'obiettivo di fronteggiare il mismatching tra domanda e offerta di lavoro. Se cerchi l'esperto di coding che fa per te Next adesso permette a questi talenti di conseguire la certificazione APAS in maniera totalmente gratuita. La certificazione APAS può essere un pass partù per garantire le giuste competenze al tuo professionista. Un'opportunità per la tua azienda per trovare il giusto talento digitale. Semplice. Subito. Next.